Questa prima amichevole contro Scafati, tutto sommato positivo dopo i primi giorni di lavoro? Sì, è stata una partita positiva per noi, ovviamente abbiamo carico di lavoro importante alle spalle, come è normale che sia, quindi è chiaro che non si possa vedere grande qualità in campo, ci stiamo allenando agonisticamente da cinque giorni, è normale che siamo un po' arrugginiti, ovviamente mancano ancora tanti giocatori, quindi non siamo in tanti, però come prima partita io penso che ci sono state cose sicuramente positive, l'atteggiamento sicuramente è stato positivo, l'atteggiamento anche difensivo, ovviamente non possiamo difendere per tutto l'arco dei 40 minuti nel solito modo, per ovvi motivi, però penso che l'atteggiamento sia stato quello giusto. Tutti i coach si stanno concentrando su un concetto in questo momento, diventare un gruppo, state riuscendo a diventare un gruppo? Sì, questo è sicuramente un aspetto fondamentale, penso che siamo una squadra di professionisti, tutti i giocatori che hanno tanta voglia di lavorare, di fare bene, sia i giocatori con più esperienza, se sia quelli un po' più giovani e ovviamente è importante fare il gruppo, lo stiamo facendo e come ho detto prima, la squadra è ancora incompleta, mancano tanti giocatori, quindi ci sarà modo man mano che arrivano di far sì che il gruppo sia più coeso, e però appunto, ripeto, come inizio è positivo. Diciamo che non sono abituato a giocare di così tanti minuti al playmaker negli ultimi anni, non l'ho fatto molto, però ovvio, per ovvi motivi mancano tanti giocatori, come ho detto, quindi mi devo sforzare a fare il playmaker. Oggi ho provato appunto a sforzarmi a fare le cose giuste per i compagni, a cercare di dare ritmo alla squadra. Penso sia molto utile anche per me, appunto, giocare da play che magari era un po' che non lo facevo per così tanti minuti.